Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. In questo giorno apriamo i nostri cuori e rendiamoci disponibili alla parola di Dio, allo Spirito Santo che vuole bussare anche oggi alle porte dei nostri cuori e parlarci. Accogliamo quindi con gioia la parola di Dio dal Vangelo secondo Marco, capitolo 2, versetti 23-27. Avvenne che di sabato Gesù passava tra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano, guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro, non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non è lecito mangiare se non ha i sacerdoti e ne diede anche i suoi compagni e diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Amen. Carissimi, dopo aver visto ieri l'episodio in cui c'è la discussione di Gesù perché non fa digiuno insieme ai suoi discepoli a differenza dei discepoli, dei farisei e di Giovanni Battista e Gesù dice quindi di mettere il vino nuovo in altri nuovi ecco che vediamo un'applicazione pratica ovvero quando in giorno di sabato Gesù con i suoi discepoli stanno cogliendo delle spighe di grano e mangiando e quindi fanno qualcosa che non si poteva fare nel giorno di sabato vengono accusati dai farisei dicendo perché fate questo che non si può di sabato Gesù riprende quindi l'antica alleanza parlando di Davide di quello che ha fatto insieme ai sacerdoti quando aveva fame e poi soprattutto cita una nuova espressione che per noi è molto importante il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato sabato che è lo shabbat questo termine che indica il giorno festivo per i giudei, per gli ebrei ricorda questo shabbat il settimo giorno in cui Dio si è riposato lo vediamo nel libro della Genesi un giorno in cui poi quando viene data l'alleanza le tavole della legge al popolo di Israele per mano di Mosè Dio ha detto ricordati di santificare le feste e quindi quanto è importante in quel giorno di sabato dice fermarsi, ricordare quello che Dio ha fatto il riposo del Signore entrare in quel riposo vivere nel riposo di Dio che per noi cristiani è il primo giorno dopo il sabato quando Gesù è risorto, quindi la domenica ma qui Gesù compie qualcosa e lo fa lo fa in un modo di proposito proprio per affermare il vino nuovo di cui parlava poco prima affermare che è giunto vino nuovo nella nostra vita nella vita di questi giudei che attendevano il Messia ecco che Gesù dice il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato quindi se ieri ci diceva Gesù che è lo sposo e quando viene lo sposo gli invitati alle nozze non possono digiunare anzi sono nella gioia e noi siamo nella gioia come cristiani dice un altro aspetto che il figlio dell'uomo che è sposo nostro è Signore anche del sabato cioè è Signore di tutto e ci dà una piena libertà perché nel tempo in cui Gesù ha vissuto si era arrivati ad un numero di precetti umani derivanti dalla legge di Dio così tanti centinaia più di 600 in cui la gente non sapeva molto come comportarsi soprattutto non c'era tanto libertà nel giorno di sabato questo dura anche oggi questa situazione e c'era in qualche modo un peso che opprimeva le persone che in quel giorno dovevano vivere certo nel riposo ma con dei divieti molto stretti molto rigidi ecco perché Gesù spesso opera guarigioni opera liberazioni o compie certi gesti in giorno di sabato per comunicare agli altri agli ebrei che Lui è il Messia è il Signore del sabato sta portando un vino nuovo fratelli e sorelle siamo cristiani questo che abbiamo ascoltato oggi è anche per noi perché spesso noi poniamo dei limiti alla grazia di Dio spesso anche noi creiamo dei sabati o come chiesa o come uomini creiamo dei divieti e non permettiamo che Gesù sia il Signore di tutta la nostra vita ma questo quindi non è uno screditare qualcosa che si fa nel mondo perché può essere anche dentro di me posso essere io stesso che nel mio cuore nella mia vita nella mia mente pongo delle limitazioni e gli dico oh Dio tu non puoi fare questo oh Dio tu non puoi entrare in questo aspetto della mia vita l'aspetto relazionale l'aspetto economico l'aspetto sessuale tu Dio stai fuori e noi facciamo una specie di Shabbat dentro di noi e gli diciamo non entrare non venire Gesù oggi ci dice quindi a livello personale per te e per me lasciami entrare nel tuo cuore io sono il tuo sposo colui che può realizzare i tuoi desideri quanto tu li chiedi colui che vede anche le cose che sono nascoste nel tuo cuore quelle che magari non hai detto agli altri ti vergogni di dire io sono il tuo Dio che ti conosce abbi il coraggio di aprirti a me di lasciarmi lasciarmi entrare lasciar entrare la mia luce perché qui Gesù ha dimostrato questo è il Signore del sabato ha dimostrato che è al di sopra di tutti quei pensieri quelle leggi quei precetti umani di non fare alcune cose è al di sopra di tutte le nostre convinzioni lasciamo che Gesù sia davvero il nostro sposo fratelli e sorelle lasciamo che Gesù sia il Signore di tutta la nostra vita non riserviamo solo un aspetto religioso questa qua è una visione che non è cristiana non è ebraica non appartiene all'ambiente biblico culturale è una visione che viene da un razionalismo un dividere quindi lo spirituale dal razionale una visione dualistica spirito carne c'è questa realtà chiaramente ma Cristo è lo sposo della mia anima e anche della mia carne lasciamo che Gesù entri oggi nella nostra vita come il Signore di tutto il mio spirito è il Signore di tutto il mio corpo di ogni aspetto come dicevo anche quelli affettivi quelli economici quelli dove non siamo abituati a lasciarlo entrare e allora ti invito fratello e sorella a invocare il Signore Gesù non mettiamo limiti lasciamo che sia il Signore di tutta la nostra vita e gli diciamo pieni Signore Gesù riempimi di te oggi ti voglio lasciare entrare in tutte le aree della mia vita proclamo che sei il Re dei Re il Signore dei miei pensieri della mia casa del mio lavoro della mia famiglia della mia economia dei miei affetti anche della mia sessualità di quello che io vivo e tengo nascosto io ti proclamo Signore e luce della mia vita colui che anche oggi illumina il mio cammino ti affido alle mie difficoltà le mie crisi le mie cadute perché tu che sei il Signore ti possa dare luce coraggio speranza di camminare avanti e seguire te che sei la mia gioia a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli Amen carissimi amici lasciamo entrare Gesù quindi oggi nella nostra vita vedrete che vi accompagnerà è l'Emmanuele e traccia una strada meravigliosa per tutti noi grazie che mi avete accolto ci vediamo domani ciao ecco Signore io vengo per fare la tua volontà ecco Signore ho sperato ho sperato ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato ha dato ascolto ha dato ascolto al mio grido mi ha messo sulla bocca un canto nuovo una lode al nostro Dio ecco Signore io vengo per fare la tua volontà per fare la tua volontà per fare la tua volontà per fare la tua volontà